Tanta voglia per tutti ragazzi, qui Mr. Frank e questo è il quarto step dell'easter egg di Infection Ci eravamo lasciati con Bubi, la mascotte del Burger Town che ci diceva che le sue batterie si erano esaurite E quindi il prossimo step richiede di andare a trovare le batterie Per fare ciò bisogna tornare nella zona del comando Atlas, quella posteriore alla zona dove si spawna E attivando la schermata, quella dentro quel casottino, illuminata che rappresenta Bubi stesso In quella opposto si aprirà uno sportellino in cui bisognerà andare a prendere una batteria, che però è scarica Bisognerà fare una corsa contro il tempo, diciamo in quanto poi c'è un tempo limitato nel quale questo sportello rimane aperto E se per caso dovesse richiudersi potete riprovare senza problemi Una volta che avete preso questa batteria dovrete andare nella parte opposta, ossia nella value voltage dove c'è la stazione di benzina E posizionare la batteria in questa pila per farla ricaricare A questo punto dovrete soltanto aspettare che si ricarichi, sia andando avanti con i round o se volete anche aspettando Ma in genere gli zombie attaccheranno questa batteria, quindi dovrete semplicemente difenderla dagli zombie Se per caso, insomma, gli zombie riuscissero a distruggerla, tra virgolette, non è affatto un problema In quanto la batteria verrà soltanto smontata, diciamo, da questa pila e voi inquadrandola, insomma, e premendo di nuovo X La rimetterete al proprio posto a ricaricarsi nuovamente Una volta che la ricarica è effettuata, voi la recupererete e avrete una batteria rossa a questo punto, insomma, lo vedrete E andrete di nuovo a Burger Town da Bubi Gli darete questa batteria per ricaricarlo e lui, in cambio, vi lascerà questa chiave Con la quale potrete entrare all'interno del panino, dell'hamburger, che è, insomma, rappresentativo del locale Quindi salite le scale, inquadrate, insomma, la porticina e premendo X potrete entrare A questo punto, qui dentro non potrete fare praticamente niente ancora Però l'unica cosa che dovete fare è inquadrare lo schermo, il monitor centrale Premendo X vi dirà che avete l'accesso disabilitato A questo punto, ragazzi, procederemo con la parte finale dell'easter egg nel prossimo video E quindi restate sintonizzati perché arriverà molto, molto a breve Un saluto da Frank e a un prossimo video Grazie a tutti